Io sono convinto e dico che è una cosa importante che ci sia un gruppo straniero che possa venire qui ad operare a Casa Micciola e nello stesso tempo possa investire decine e decine di milioni di euro per risolvere questa problematica. L'ho sempre detto pure nelle campagne elettorali, ho sempre detto pure nelle mie diffide. Ritengo il Piemonte della misericordia il volano economico del futuro della nostra cittadina termale. Ritengo che questo fatto però debba essere inserito in un discorso molto più ampio. Io nel 1996 ho firmato un contratto notarile dal notaio Arturo insieme al governatore del Piemonte della misericordia. Io come sindaco di Casa Micciola con una delibera di consiglio comunale, il governatore come governatore del Piemonte protempore a suo tempo con una delibera del governo del Piemonte di allora. E quindi siamo addivenuti ad un fitto dell'immobile per 30 anni, alla possibilità di poter trasformare il fitto in un diritto di superficie per altri 20 e un'ulteriore opzione per altri 50 anni, cioè per 99 anni dal 96 per altri 99 anni era nella piena disponibilità del comune.